Chi te li soldi e fabbrica e chi no disegna Come ti ci cadono le sole delle figne Uscita Nord, il sogno occidentale è il disco in questione ma ne vedremo anche un altro e comunque io direi di cominciare l'intervista col grande Marco Belisario che ci deve raccontare come è nato questo gruppo, questa Uscita Nord perché l'altra volta non ce l'aveva raccontato Non lo ricordo, però intanto salute a tutti Alla faccia di chi ci vuole male Ma anche qui si dice Non cambia la sostanza Tu mi hai detto grande, forse volevi dire grande di età E poi dicevi siamo indipendenti, quello sì Siamo perennemente emergenti, quello pure Ma non ci dispiace questa cosa perché ci rende sempre in qualche modo giovani e quindi ci dà la forza sempre di rinnovarci Spesso mi capita di fare il punto della mia situazione Mi rendo conto Che ho rubato del tempo prezioso al mio tempo A fare il punto per l'appunto Molto meglio sarebbe pensare di meno Ed agire per istinto Certe cose non vanno programmate Ma prese realizzate poi domani si vedrà Come nasce Uscita Nord? Uscita Nord è una storia lunghissima Guarda i capelli di Angelo Già da quello puoi renderti conto Uscita Nord nasce parecchi anni fa Adesso non mi fa dire quanti Ma nasce come una band sostanzialmente fusion Diciamo così Quindi con una radice quindi jazz E da lì che abbiamo iniziato un percorso Prima facevamo praticamente solo brani strumentali E a un certo punto del nostro percorso Abbiamo deciso di inserire qualche parola Qualche testo Più o meno intelligente Più o meno mai banale E lo abbiamo fatto insomma Ormai sono diversi anni che facciamo Che scriviamo brani Angelo Albano al basso elettrico E la storia di Uscita Nord Ripeto li puoi vedere dal capello bianco Ma ormai è una sette della natura continua Non ci piace Io li taglio per non farli vedere No però insomma dai Scherzi a parte Noi siamo come dire Gli elementi fondanti della band L'ultimo nostro lavoro Il sogno occidentale È un lavoro al quale abbiamo dedicato Molta fatica Ci crediamo tantissimo Ed è un intreccio Noi speriamo molto interessante Tra le trame sonore e i testi Che sono poi sempre una rilettura In chiave anche autoironica Dei fatti che accadono nella vita moderna Diciamo che questo avviene Grazie alla sapiente scrittura di Marco E alle composizioni di Marcello Noi io come bassista Mauro come chitarrista E Bruno come batterista Percussionista Cerchiamo di Di dargli delle connotazioni Che siano a cavallo Tra più colori musicali Noi crediamo che quest'ultimo lavoro Sia quello che ci rappresenti meglio Perché forse è il lavoro più maturo Del nostro percorso artistico La ragazza sulla strada Si muoveva con eleganza Catturava l'attenzione Con il passo di una danza Mentre io Ero lì che la inseguivo Con lo sguardo Per fissare questo corpo Dentro il cuore di un dipinto Improvvisamente avvenne Qualche cosa di inatteso Con gli occhi ci incontrammo Nel mio angolo segreto La tela prese forma Esplodendo i suoi colori Il destino fece il resto E non fumo mai più soli Stiamo in un ristorante A Tortoreto possiamo dirlo? Si Allora si chiama Ma e Ma Ma and Ma Si mangia bene La pizza è napoletana Proprio come si fa a Napoli Il caffè me lo direte voi Se è come si fa a Napoli E' facile A me il caffè lungo non piace Io voglio il caffè leggermente ristretto Anzi moderatamente ristretto Corto Semplicemente corto Semplicemente corto Ho conosciuto Marco Bellisario E da lì ci siamo detti Ma perché non facciamo una cosa nostra Visto che lui già scriveva dei testi Aveva già fatto delle canzoni Siamo messi insieme Abbiamo iniziato a collaborare A scrivere le prime canzoni E di lì a poco abbiamo iniziato a scrivere Il primo disco Che fu Vizi, Vezzi e Virtù Prendendo anche delle vecchie canzoni di Marco Riarrangiate E da lì è nato tutto Per quanto riguarda la storia di Uscita Nord E questi dischi si trovano da qualche parte in rete? Assolutamente sì I dischi si trovano su tutti gli store digitali principali Da Amazon, iTunes Ovviamente abbiamo anche i nostri contatti in rete Su Facebook il nostro sito Uscita Nord E anche il sito ufficiale che è www.uscitanord.it Quindi potete contattarci, visitarci Magari lasciate dei commenti Ascoltate le nostre canzoni Se non trovate i dischi Se non trovate i dischi nella vostra città Scrivetecelo Lo spediamo noi Sicuramente sarete contattati Saremo lieti di spedirvelo a casa Chi te li soldi e fabbrica e chi no disegna Come dici caro monna e sole di rifrigna Chi te li soldi e fabbrica e chi no disegna Come dici caro monna e sole di rifrigna Canzone proverbiale Canzone nata da un vecchio proverbio abruzzese Che recitava così Chi te li soldi fabbrica e chi no disegna Poi io ho aggiunto Come dici caro monna e sole di rifrigna Allora adesso traduco Chi ha i soldi quindi Chi ha il denaro Questo mi cantava sempre mio no Narcurd Che se hai soldi puoi disegnare Quindi puoi realizzare i tuoi progetti I tuoi sogni Se non li hai Li disegni soltanto Allora poi ho detto Ma perché? Ma allora che significa questo? Significa che se tu poi sei furbo Il mondo sarà tuo Se non sei furbo Ti freghi In autunno sono previsti concerti Su Milano Su Bologna Ma udite udite Anche su Roma In bocca al lupo E voi risponderete Viva il lupo Grazie a presto Ciao 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 Chi hai le soldi e fabbrici Chi non disegna Come dici caro monna e sole di rifrigna Chi ti hai le soldi e fabbrici Chi ha il denaro può fabbricare, chi non ce l'ha progetta soltanto Sembra una regola di vita attuale, non me ne curo e mi accontento Come dire che questo mondo è un'esclusiva solo dei furbi Loro arrivano con occhio attento e se ti guardano lo fanno per fregarti Chi deve soldi e fabbrica e chi non ti segna Come dici cano, monna e sole di rifrigna Chi deve soldi e fabbrica e chi non ti segna Come dici cano, monna e sole di rifrigna combination Monna e sole di rifrigna Monna e sole di rifrigna Monna e sole di rifrigna